A.I.W.C, Portuguese Chronograph, tradizione, eleganza ed edizioni limitate. Il Portuguese Chronograph fa la sua prima apparizione nel 1995, con la referenza 3712. Si tratta di un orologio che riprende lo stile classico del Portuguese, ma che introduce anche elementi di modernità e dinamismo. Il quadrante è caratterizzato da due contatori incassati a ore 6 e 12, che indicano rispettivamente i secondi e i minuti cronografici. La scala dei quarti di secondo sul reo consente di misurare i tempi con una precisione di un quarto di secondo. Le lancette sono a foglia, come nella tradizione del Portuguese, ma sono anche luminescenti, per garantire una buona leggibilità anche al buio. A.I.W.C prosegue il suo percorso di eccellenza inaugurato nel 1995 con l'introduzione del primo Portuguese Chronograph rattrapante. Questi orologi si distinguono per la presenza di un terzo pulsante, un dettaglio distintivo che consente di avviare e arrestare la lancetta rattrapante, permettendo una misurazione precisa di due intervalli di tempo distinti. A.I.W.C presenta con orgoglio l'edizione speciale limitata del Portuguese Chronograph Rattrapante Edition Boutique Munich, REF. I.W.C. 371217, con cassa in acciaio, quadrante blu e cinturino in pelle di alligatore blu, è un capolavoro disponibile in edizione limitata di 250 pezzi. Il Portuguese Chronograph Rattrapante Edition Boutique Milano, REF. I.W.C. 371215, con cassa in oro rosso e quadrante blu, si presenta in edizione limitata di 100 esemplari. Caratterizzato da una scala telemetrica sul reo e una scala tachimetrica sull'anello interno del quadrante, questo orologio sportivo è completato da un lussuoso cinturino in pelle di alligatore nero rifinito a mano. Il Portuguese Chronograph è un orologio che non passa inosservato, che si adatta a ogni occasione e che esprime la personalità di chi lo indossa. Il Portuguese Chronograph Rattrapante Edition Boutique Milano, REF. I.W.C. 371215, Grazie a tutti.